Direttore Perotti, è bello fare il giornalista? È molto bello perché scrivendo gli articoli si attirano l'attenzione di tante persone, ma anche un lavoro molto difficile, anche un lavoro di grande responsabilità, perché bisogna dire alla gente, al lettore, cose vere, se si divulgono cose sbagliate poi si fa un grande danno. Il compito del direttore è in particolare anche quello di vigilare su quello che è scritto, che non deve essere né offensivo, né falso, né tendenzioso.